Il caffè Margutiana nel centro di Forte dei Marmi ha ospitato la presentazione ufficiale della squadra che compone la lista civica Amo Forte a sostegno della candidatura di Umberto Buratti a sindaco di Forte dei Marmi. 12 nomi provenienti quasi interamente dal tessuto civico cittadino e scelti attraverso un percorso di partecipazione che il candidato intende proseguire anche in caso di vittoria. Beh è arrivato il giorno di questa, io non direi della lista, ma di presentare le donne e gli uomini che hanno dato la loro disponibilità per lavorare per Forte dei Marmi, per la nostra comunità. Sono stati fatti una serie di incontri, alcuni hanno dato la loro disponibilità ma è nostra intenzione coinvolgere il più possibile tante persone sia oggi, e lo hanno fatto nei gruppi di lavoro, ma quando andremo a riprenderci il comune per avere sempre la partecipazione di tutti i cittadini. Il parlamentare del PD ha indicato anche con decisione quale sia la priorità per Forte dei Marmi sulla quale intende lavorare da subito. La vera priorità secondo me è ricostruire una comunità, lasciare perdere il rancore, un po' l'odio che l'aveva preso secondo me in questi anni, essere vicini alle persone, soprattutto quelle che hanno dei bisogni, che sono in difficoltà, e poi il pensare ad un paese dove la sostenibilità e la partecipazione siano i due pilastri portanti.